Musica Celebrazioni anche a Teramo al comando provinciale dei Vigili di Fuoco di Santa Barbara, la patrona del Corpo Nazionale, una cerimonia che come tradizione è l'occasione per fare il bilancio di un anno di attività su tutto il territorio, un lavoro intenso quello del Vigili del Fuoco che oltre a completare le attività di soccorso ordinario comprende anche la gran mole di lavoro portato dagli ultimi eventi che hanno interessato il territorio anche in questi ultimi giorni. La nostra Santa Barbara che non solo ci dà l'opportunità di riunirci e per riaffermare sempre il nostro spirito di corpo ma poi spesso anche ci protegge in tutti i nostri interventi, in tutti i rischi che il personale, che il Vigili del Fuoco corre ovviamente nel soccorso, in tutte quelle situazioni dove effettivamente il rischio è molto alto. È stato un anno assolutamente particolare per i Vigili del Fuoco, tantissimo lavoro come confermato anche nel weekend? Certamente, quest'anno è stato veramente molto particolare, l'inizio come sapete non è stato dei migliori, già con la nevicata di gennaio siamo stati fortemente impegnati, abbiamo contato tre vittime e quindi è stato veramente un anno particolare, intenso da un punto di vista operativo. Successivamente come sapete ce ne sono state le frane di Civitella e di Campli, ancora gli incendi boschivi, ancora come ricordava lei gli allagamenti e quindi sulla costa abbiamo avuto parecchi problemi fino all'altro giorno. Devo dire veramente grazie al personale che ha risposto in maniera massiccia al potenziamento che siamo riusciti ad ottenere e quindi a rispondere pienamente a quanti ovviamente chiedevano aiuto. Sappiamo che l'Abruzzo ma anche il Terramano in generale da un punto di vista del distesso idrogeologico purtroppo non si fa mancare nulla, in queste occasioni questi difetti tra virgolette vengono a galla e quindi abbiamo il nostro da fare. A seguito delle dimissioni di 18 consiglieri comunali Terramani è terminato il secondo mandato del sindaco Maurizio Brucchi dopo un tiro in molla durato parecchi mesi. Il fatto che sette di loro si siano candidati con il centrodestra e siano stati avversati i firanieri degli altri 11 non aiuta di certo a sciogliere il gelo. Mi sento tradito. Sono state queste le prime parole dell'Eurama ex sindaco, parole dure in particolare rivolte nei confronti di alcuni leader prima alleati a lui come i gatti chiodi di Dalmazio. Ma assolutamente no, non doveva finire così. Davvero c'è mattina c'è tanta amarezza, ancora più di ieri, tante sensazioni negative affollano la mia mente, il mio stato d'animo. Davvero mi sento tradito, tradito da chi avrebbe dovuto continuare a portare avanti i progetti importanti di questa città che ora rischiano purtroppo di perdersi perché questo rischio oggettivo c'è. Io credo di avercela messa tutta, di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità, nelle mie corde per amministrare bene questa città e credo in parte anche di esserci riuscito. C'è qualcuno invece che senza motivo ha voluto che questa città venisse commissariata, una città che è ancora in regime di emergenza, c'è ancora uno stato di emergenza, ci sono ancora ordinanze di sgombero che vengono firmate quotidianamente, c'è una ricostruzione da fare, ci sono oltre 40 milioni di euro di progetti da portare a termine e si preferisce far venire il commissario, davvero una brutta pagina della politica terramana. Io ringrazio davvero tutte le persone che mi sono state vicine da un punto di vista lavorativo in questi anni e chi in questi giorni mi sta dimostrando davvero grande vicinanza, in particolare il mio partito, voglio ringraziare che sia a livello locale, regionale e nazionale ha fatto il possibile affinché questo non avvenisse ma non c'è stato niente da fare proprio contro tutto e contro tutti. Però niente, poi il tempo sarà galantuomo e il tempo restituirà come dire la verità a questa città. Io nel frattempo continuo a fare il mio dovere, il prefetto mi ha chiesto di restare in carica fino all'arrivo del commissario e sto lavorando anche questa mattina, però nel frattempo colgo anche l'occasione per salutare un po' i dipendenti comunali. Dopo otto anni e mezzo di sindaco e diciannove quasi di attività politica nella mia città credo che sia doveroso ringraziare e salutare e spronare anche i vari uffici ad andare avanti anche nei lunghi mesi che ci divideranno dalle nuove elezioni perché saranno lunghi mesi e saranno mesi difficili. Sono qui anche a vedere questo bell'albero che quest'anno mi sembra essere anche più carino, l'illuminare, insomma abbiamo voluto anche preparare la città per le feste di Natale. Davvero tanta amarezza, tanto dispiacere, però anche un ringraziamento a tutti quelli che in questi mesi, in questi anni, in questi giorni hanno comunque dimostrato vicinanza e abbiamo fatto un buon lavoro. Grazie a tutti. Ognuno ha giocato una propria partita, una propria partita che aveva finalità che magari scopriremo presto. Ognuno ha cercato a un certo punto quasi di liberarsi le mani come se questa amministrazione fosse chissà che cosa. Questo non va bene, qui la responsabilità se le cose sono andate male e non sono andate male, ce l'hanno tutti. Nessuno si può rifare una verginità alle spalle del sindaco Brucchi, questo non lo permetterò a nessuno. Ognuno ha contribuito nel bene o nel male ad amministrare questa città e quindi nessuno provi a tirarsi da parte a fare come Ponzio Pilato, anche perché la città comunque è giudici e insindacabili. I cittadini sono giudici e insindacabili di quello che è accaduto. A Teramo i lavoratori della Tercop che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento hanno fortemente contestato i consiglieri comunali che hanno presentato le dimissioni sancendo la fine di questa esperienza amministrativa, poiché col commissariamento del Comune si interromperà anche la loro vertenza, mettendo a rischio il futuro della cooperativa sociale. Per i lavoratori della Tercop, infatti, a fine anno si prospetta la risoluzione dell'appalto con il serio rischio di lasciare a casa 26 persone. Quello che noi abbiamo contestato sostanzialmente e non approvato è diciamo che queste stesse dimissioni, ovviamente era giusto darle, praticamente potevano essere semplicemente posticipate di una decina di giorni per dare la possibilità di svolgere un'altra commissione consigliare dove l'amministrazione comunale si era impegnata a portare l'ultimo parere che mancava per l'indizione di una gara d'appalto, il parere legale e quindi aspettando questi dieci giorni praticamente probabilmente si sarebbe risolto un grosso problema che ormai ci portiamo avanti da almeno 4-5 anni. Allora, preoccupazione, diciamo che per come si stavano mettendo le cose, da una probabile soluzione in mano a un consiglio comunale, a consiglieri comunali, alla politica, adesso siamo un pochettino in balia della sorte. non è che abbiamo perso le speranze perché può arrivare un commissario, diciamo, serio e responsabile che sappia analizzare il problema e si prenda delle responsabilità che la politica non ha voluto prendersi. Il commissariamento ha un nome e un cognome? Al partito sin da luglio ho chiesto di intervenire per evitare questo epilogo, ma Gatti è stato sordo anche nei confronti del partito. Così l'oramai ex sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi di Forza Italia, ha mandato a casa dalle dimissioni di 18 consiglieri comunali, 7 del centro-destra, di cui 5 di futuro in e 2 al centro per Teramo, che fanno capo rispettivamente consiglieri regionali Paolo Gatti del suo stesso partito e Mauro di Dalmazio di Abruzzo Futuro, attaccato senza mezzi termini i suoi ex alleati. Tra i principali bersagli della reazione di Brucchi c'è proprio il vicepresidente del consiglio regionale, Gatti, accusato di aver tradito l'ex primo cittadino. Ma quelli che hanno tradito qualcosa sono i vari consiglieri che nel corso di tre anni e mezzo hanno fatto mancare i numeri e la coesione alla maggioranza ed è stato uno stilicidio che è durato tre anni e mezzo e che nell'ultimo anno è diventato veramente esagerato. I sei consiglieri di Futuro In sono stati sempre leali, hanno sempre votato, hanno sempre appoggiato l'amministrazione, alla fine si sono resi conto che senza maggioranza non si poteva andare avanti, quindi rivolgersi altrove. Penso che ci sarà una campagna elettorale, speriamo che sia breve, si voterà in primavera, credo che la città abbia bisogno di un rinnovamento competente e avrà la possibilità, i cittadini avranno la possibilità di scegliere e di scrivere una nuova storia. Non mi sembra una tragedia, Brucchi ha fatto il sindaco nove anni, ha fatto tutto quello che poteva e adesso ci sarà una nuova storia e i cittadini saranno liberi di scegliere. Lei è pronto a scendere in campo come primo cittadino? Questo sarebbe un grande onore perché la cosa più bella che ti possa capitare nella vita è fare il sindaco della tua città, la città che ami, però credo che ci siano persone più adatte di me, io offrirò il mio contributo, cercherò di convincere le energie migliori che ci sono a Teramo, le persone migliori a candidarsi perché bisogna assolutamente elevare la qualità della rappresentanza. Uno dei problemi più grossi che ci hanno portato a questa conclusione è stata l'elezione di qualche consigliere che ha scambiato il Consiglio Comunale per gli affari suoi. I reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Teramo e Sant'Omero hanno ricevuto da Onda Osservatorio Nazionale sulla salute della donna un bollino rosa a testa per il BN 2018-2019. I bollini rosa sono il riconoscimento che Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Un premio direi che ci rende molto orgogliosi perché è un premio rivolto a quegli ospedali che hanno una particolare attenzione alla medicina di genere, di cui oggi si incomincia a parlare sempre più, proprio perché le cure riservate alle donne possono oggettivamente essere diverse da quelle riservate agli uomini, non tanto nei termini della tipologia di cure, ma anche per esempio un farmaco, magari lo stesso farmaco ha effetti diversi sugli uomini e sulle donne. Quindi ci sono moltissimi studi scientifici che stanno rilevando questa necessità della personalizzazione delle cure e c'è questa associazione che si chiama ONDA, cioè l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, che da dieci anni, e ieri si festeggiava il decennale di questa organizzazione, conferisce questo premio dei Bollini Rosa a quegli ospedali che si occupano particolarmente delle malattie di genere, comunque rivolte al genere femminile. Tant'è che ieri, peraltro, qualcuno ha voluto dire, ok, allora se le malattie sono diverse, diciamo, occupiamoci anche di quelle al maschile. E senz'altro è stato fatto anche un passo avanti in questa situazione. Il premio di ieri è stato particolarmente sentito, perché tra l'altro l'Asli Teramo aveva incominciato già questo percorso nel 2008, ricevendo due Bollini Rosa da ONDA. E poi questo percorso si era interrotto, perché a volte la direzione strategica aziendale non è sempre dell'avviso di partecipare magari a cose di questo genere. Ma devo dire che quest'anno il direttore generale Fagnano ha preso questo impegno e siamo stati molto contenti di aver ricevuto di nuovo questo riconoscimento che vale due anni e poi ci ricandideremo senz'altro con l'idea, tra l'altro, di aumentare i nostri servizi rivolti alle donne. Questi due premi sono oggi per l'ostetricia e la ginecologia dell'ospedale di Teramo e l'ostetricia e la ginecologia dell'ospedale di Sant'Omero. Quindi per la dottoressa Anna Marcozzi e per il dottor Benucci, che dirigono queste due unità operative. Io ho svolto esclusivamente il ruolo del facilitatore, diciamo, di quello che comunque ha candidato la ASL in questo percorso, ha risposto al questionario, devo dire, molto articolato, che constava di 300 domande e quindi bisognava dare delle risposte assolutamente sincere, consapevoli su quelli che erano effettivamente i requisiti degli ospedali e abbiamo ricevuto questo riconoscimento. Quest'anno con un solo bollino su tre, ma appunto cercheremo di aumentare il numero dei bollini. A Teramo, l'oramai ex assessore agli eventi, Roberto Canzio ha annunciato che nonostante la caduta dell'amministrazione guidata da Maurizio Brucchi sta lavorando per garantire il cartellone di eventi natalizi presentato nel mese di novembre. Una situazione molto delicata su cui con ogni probabilità ci sarà anche il bisogno dei privati per far sì che Teramo non rimanga senza manifestazioni. Sì, perché in realtà comunque, anche se ho visto che qualcuno, insomma, oggi ha dichiarato che le manifestazioni andavano organizzate prima, in realtà non è che stavamo, voglio dire, a riposo. Siccome molte associazioni già le avevamo contattate prima, come gli artisti di Capodanno, per quanto riguarda alcune associazioni che avrebbero fatto delle iniziative nei fine settimana, mi hanno chiamato tutti quanti, volendo, insomma, anche loro non abbandonare la città in questo periodo e quindi ci stiamo già programmando. Già dalla settimana prossima, quindi il 14, 15 e 16, ci saranno tre giorni di eventi. Poi addirittura ne avevamo un altro che adesso mi devo vedere proprio stamattina con gli organizzatori che probabilmente si farà proprio 24, 25, 26 dicembre. Stiamo vedendo anche la Peristritt che era programmata per il 23 di dicembre e in più, diciamo, l'ostacolo più duro, forse legato più a realizzazione del Capodanno, del Capodanno dei bambini, che lo facevamo il primo. Magari anche se in tono, non dico minore, ma non al livello che avevamo pensato, però comunque di organizzare anche il Capodanno. Illuminarie le abbiamo garantite, che sono tra l'altro luminari e nuove rispetto al passato e quindi niente, noi ci proviamo. Per il rispetto della città, insomma, abbiamo amministrato e questa cosa, ripeto, è possibile perché noi i contatti li abbiamo da mesi. Lei ha anche annunciato che se non ci dovessero essere i fondi si sta organizzando per trovare proprio delle sponsorizzazioni da parte di privati. Mi sto organizzando. Più che altro insieme al Sindaco stiamo vedendo se, insomma, anche chi lavora sul territorio è disponibile a dare una mano. Chiaramente, perciò dicevo, tutto quello che si organizza per il Capodanno sarà legato a quelle che sono, come dire, le risorse. Però vi posso anche dire che siccome c'era un'associazione che avrebbero comunque compartecipato all'organizzazione, quindi siamo molto fiduciosi perché sono alcune organizzazioni che avrebbero partecipato anche con propri sponsor all'organizzazione del Capodanno. Quindi con ogni probabilità il Natale per i terramani rimarrà quello da programma? Diciamo, per larga parte sì, ma ripeto, grazie alle associazioni che, insomma, ci hanno ricontattato e hanno chiesto se volevamo dare una mano dall'esterno comunque per portare avanti questa programmazione. Chiaramente molti eventi, quelli dei fini di settimana specialmente, sono legati al ritorno del mercato del sabato, in Corso San Giorgio. Noi avevamo avuto la certezza e l'assicurazione che già da domani il mercato sarebbe tornato in Corso San Giorgio e quindi la piazza sarebbe stata liberata per gli eventi. Io oggi ho incontrato l'impresa, la vedo difficile che domani il corso sarà libero per il mercato. Quindi è evidente che se dalla prossima settimana il mercato non torna in Corso San Giorgio, già la manifestazione della settimana prossima dovrà saltare per chi è occupata dal mercato Piazza Martire. Luigi Pizzi, 64 anni, a Scolano, è il commissario prefettizio nominato dal prefetto di Teramo, Gabriella Patrizzi, per la provvisoria gestione del comune di Teramo, sciolto per le contestuali dimissioni di 18 consiglieri su 32. Pizzi, laureato in giurisprudenza nella carriera prefettizia dal 1981, è stato capo di gabinetto sia a Chieti che a Pescara, oltre che vice prefetto vicario a Pistoia, Campobasso e Venezia, prima di assumere la nomina di prefetto nel 2009, rivestendo il ruolo di rappresentante del governo a Matera dal 2012 al 2015 e a Pesaro Urbino dal 2015 allo scorso 19 novembre 2017. Alle spalle ha già altri incarichi commissariali nei comuni. Lo è stato a Gioia Tauro dall'agosto del 2009 all'aprile del 2010, quale presidente della commissione straordinaria del comune, il cui consiglio era stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata a Santa Maria Capoavetere da gennaio a giugno 2011, a Trevi da agosto a dicembre 2011, è commendatore dal 2014 ed è stato anche il primo prefetto a ricevere nel giugno dello scorso anno il premio Marchigiano dell'Anno, conferito dal Centro Studi Marche di Roma. Nel comune costiero di Giulianova, come promesso dall'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Mastromauro, sono stati interrotti i lavori di riqualificazione della pavimentazione di Via Nazario Sauri in occasione delle festività natalizie, questo per non ostacolare il normale flusso veicolare e pedonale, così come richiesto dagli operatori commerciali alla presentazione del progetto. Interventi che riprenderanno dopo l'epifania per dare seguito al completamento dei lavori. È un impegno che sia io che il sindaco ci eravamo presi qualche mese fa per venire incontro alle esigenze non solo delle attività commerciali ma più in generale della città che durante le feste natalizie rivive un'atmosfera particolare, gioiosa, quindi abbiamo deciso di sospendere momentaneamente questi lavori permettendo il transito delle auto, permettendo la sosta delle stesse e questa situazione durerà fino all'8 di gennaio fino al termine delle festività natalizie per poi riprendere e terminare, credo, intorno alla metà di febbraio riconsegnando alla città un corso rinnovato, nuovo, marciapiedi che saranno sicuramente più belli e anche più sicuri da un punto di vista della sicurezza pedonale e inoltre completeremo anche quell'importante opera di regimazione delle acque bianche che purtroppo questo tratto non aveva, quindi siamo molto soddisfatti di questo primo step e speriamo che anche gli altri step continuino in questo senso. Sono diversi i lavori in fase d'opera che verranno completati nel 2018? Sì, noi come amministrazione abbiamo messo in cantiere molte opere, ne cito solo quelle più importanti, ad esempio nella prossima primavera noi interverremo su molti tratti stradali che abbisognano di interventi per una questione di sicurezza e della viabilità, ne cito solo alcuni, via Prato, via Falgioni, via Montello, tante vie, via San Nicolai, sono delle vie che presentano delle criticità e che fanno parte di un gruppo più ampio che noi abbiamo già analizzato, questo sarà un primo stralcio a cui poi seguiranno altri interventi perché, ripeto, la sicurezza delle strade viene messa anche qui al primo posto per questa amministrazione. Dopodiché c'è l'impegno da parte mia e da parte dell'amministrazione anche per quanto riguarda l'abbattimento delle passerelle di Via di Vittorio che è un tema che questa città ormai affronta da anni, noi con questa amministrazione abbiamo trovato le risorse per poter fare questo intervento, abbattere le passerelle che non solo rappresentano un pericolo per la città perché sono in condizioni, diciamo, critiche da un punto di vista strutturale ma anche da un punto di vista estetico rappresentano anche un elemento di degrado che noi, grazie all'impegno di questa amministrazione, riusciremo a togliere. Inoltre aggiungo che noi abbiamo in questi giorni anche dato finanziamento alle ultime opere di adeguamento alla normativa antincendio che rappresenta l'ulteriore tassello di sicurezza delle scuole che è stato sempre messo al primo posto non solo da questa amministrazione ma anche dalle precedente per garantire, ripeto, l'incolumità non solo agli alunni ma anche a chi lì vi lavora svolgendo un ruolo non solo sotto il profilo dell'istruzione ma anche pedagogico. Quindi una serie di cantieri, di messe in opera che questa amministrazione ha potuto fare grazie ed esclusivamente alla programmazione che è grazie ad un lavoro certosino fatto con gli uffici, fatto con tutta la Giunta. Pochi giorni fa l'insediamento nella nuova sede di Via Lucid ora un'altra buona notizia per il Conservatorio Terramano l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Braga si esibirà alla Camera dei Deputati in un concerto volto a sensibilizzare le istituzioni alla ricostruzione del prestigioso Conservatorio Abruzzese fortemente danneggiato dal terremoto Il concerto avrà luogo il prossimo 12 dicembre alle ore 16.30 presso la Sala Reggine e sarà preceduto dall'intervento della Sottosegretaria Paola De Micheli commissaria straordinaria del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto. Sicuramente per il Conservatorio si tratta di un evento epocale perché per la prima volta il nostro Conservatorio o meglio l'Orchestra Giovanile del nostro Conservatorio con alcuni solisti si pregia di suonare dinanzi alla Camera dei Deputati nella Sala della Regina diciamo che questo è il coronamento e aggiungo anche degno coronamento di un percorso estremamente difficile svolto dal nostro Conservatorio e però appunto quando poi i frutti arrivano siamo tutti molto più contenti e presentiamo anche questa chicca alla cittadinanza perché andare a suonare nella Camera dei Deputati noi, Piccolo Conservatorio Terramano Abruzzese secondo me è veramente una notizia da grande risalto. Darà l'inizio a tutta una serie di eventi che faremo poi successivamente il 20 all'Università di Tor Vergata a Roma replicheremo il concerto e poi il 22 faremo il concerto in Duomo qui a Teramo per capire un po' le festività al periodo del Natalizio e questo concerto rappresenta da un punto di partenza importantissimo per il nostro Conservatorio sia per il prestigio del luogo dove andremo a suonare ma anche per l'impegno artistico perché comunque è un mese che stiamo lavorando i ragazzi hanno fatto moltissime prove sotto una prestigiosa bacchetta del maestro Simone Genuini che nel campo di orchestre giovanili credo senza ombra di dubbio che sia il miglior direttore almeno in Italia ma credo uno dei migliori in Europa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!